Voca e Tutino regalano i tre punti importanti al Cosenza. 2-0 contro la Reggiana e soprattutto lancia in zona playoff il Cosenza. Dopo tre partite senza vittorie, fra cui una sconfitta e due pareggi, si torna a vincere nelle Muramiche. Un Cosenza che ha fatto una bella partita, non dico che ha dominato, però la vittoria non è meritata, è strameritata. Poi ci sono stati momenti in cui ha giocato meglio la Reggiana, momenti in cui ha giocato meglio il Cosenza, però sono tre punti fondamentali. Il Cosenza, l'obiettivo del Cosenza è sempre quello di salvarsi. Prima si salva e dopo che ha la salvezza, ogni cosa che viene è buona. Ora, fra 15 giorni ci sarà il derby della Calabria, forse il derby calabrese più sentito di tutti. Cosenza-Catanzano, e lì c'è da divertirsi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Ciao! E forza Cosenza!